Si tratta di una collaborazione con gli ordini professionali, così come è accaduto in altre occasioni con altri ordini, quindi quello di ottenere un rapporto di collaborazione con tutti gli ordini professionali della Cia di Catania. Nello specifico questo è un protocollo che semplifica i rapporti tra il cittadino e le istituzioni, ma ha anche altri risvolti, oltre a quelli che sono stati sottolineati dal sindaco e dal presidente dell'ordine professionale, anche ricadute per quanto riguarda l'amministrazione, cioè la possibilità da parte dell'amministrazione di poter porre dei quesiti che riguardino appunto il tema della fiscalità alle diverse sezioni dell'ordine professionale dei commercialisti di Catania e quindi la possibilità di poter trovare punti di incontro e di fatto quindi ridurre le conflittualità in materia fiscale e tributaria, ma anche una ricaduta positiva per i dipendenti dell'amministrazione che potranno fuire gratuitamente dei corsi che verranno organizzati dall'ordine professionale dei commercialisti di Catania.